Le video notizie di distribuzione moderna Questa è una società che fino a 5 anni fa fatturava poco meno di 5 milioni e lo scorso anno abbiamo superato i 7. Quindi sostanzialmente da 5 milioni a 10 milioni e mezzo più 11 lo scorso anno Questo è il trend che l'azienda ha preso nell'ultimo quinquennio Questo se devo dire ha avuto come driver ulteriore oltre ai due asset aziendali Il modus operandi sulla clientela che è molto semplice ma non così scontato Che è quello prima di sapere ascoltare i nostri clienti E sapere raccogliere quindi da loro le loro esigenze principali Per poi rispondere in maniera coerente con quelle che sono le loro esigenze In questo siamo diventati spesso non semplicemente un fornitore Quindi una realtà da mettere in gara con altre come spesso capita Dobbiamo stare sul mercato, di questo lo sappiamo Ma un partner e come ci ha definito uno dei nostri più grossi clienti Un outsourcer, cioè qualcuno che come se fosse parte dell'azienda, del brand Identifica la problematica, insieme la si risolve e si porta al goal Con un progetto di comunicazione a 360 gradi Questo l'abbiamo voluto ben schematizzare In un vero e proprio processo di vendita Che abbiamo chiamato test and optimize Che consiste appunto nel raccogliere esigenze del cliente Cercare di implementarla con dei primi test Relativamente a ciò che può essere la soluzione Metterla al value del cliente, valutarne gli esiti E nel momento in cui si incontra veramente questa esigenza Andare live E se invece si dovesse sbagliare Cosa che devo dire ci piace sbagliare Perché cresciamo in questo, miglioriamo continuamente Nel momento in cui sbagliamo torniamo indietro all'esigenza Riproponiamo questo processo fino a che in maniera molto tenace Non arriviamo veramente alla soluzione che il cliente si attende E questo processo che può sembrare molto lungo Ma che si svolge spesso nel breve volgere di poche settimane Pochi giorni Porta veramente a dei risultati interessanti Per i quali i nostri clienti continuano a sceglierci E a preferirci Anche in questi momenti di lockdown E di crisi profondissima che stiamo affrontando E di crisi profondissima che stiamo affrontando